Buongiorno e buon caffè. Fa molto freddo oggi e ci sarebbe bisogno di un po' di calore. Anche perché la nebbia incombe. Ma te ne accorgi solo quando te la senti addosso, quando ti strizza come in una morsa, ti annebbia tutto, tutto diventa grigio, tutto diventa soffocante. Eh già, perché la sensibilità si acuisce quando soffri, non quando va tutto bene. Quei momenti lì non sei sensibile, non senti addosso la ferita. Il problema è cosa farsene di questa ferita, di questa sensibilità. Le possibilità sono due. O metterla ad alimentare il nostro egoismo e quindi farci sentire vittime del mondo, un mondo che non ci merita. Oppure metterla a servizio della nostra felicità, che ci insegna ad amare gli altri, a capire meglio gli altri, a cercare di comprendere cosa stiano provando gli altri. Perché è chi soffre in una relazione che si accorge che le cose vanno cambiate, non l'altro. E allora può cambiarla in meglio. Può smetterla di piangersi addosso, di rivendicare, di sentirsi vittima e cercare di far sì che le cose vadano meglio. Anche nel piccolo. Prendete gli auguri multipli di Natale. O altre occasioni in cui siamo taggati, molte banalità a volte, forse per noi, non per chi le ha scritte. Ecco, mi sono reso conto da poco, e questo dimostra molto quanto è fragile la mia sensibilità, che anche scrivere un grazie, un piccolo segno di aver apprezzato, di essere passati di lì, di provare riconoscenza per quanto piccola, per chi ci ha in qualche modo coinvolto nel suo affetto, è importante. Quando non ottieni neanche questo, neanche un mi piace, che d'accordo, va bene, andranno a alimentare anche l'ego, ma sono anche carezze che servono qualche volta per tirare avanti, e ci rimango male, e lo so che questo è un errore, d'accordo, ma se non ci aiutiamo nelle debolezze, nelle fragilità, che ci stiamo a fare? Allora perdere quei pochi secondi per scrivere anche soltanto un grazie, una faccina, qualcosa che testimoni, che abbiamo visto e apprezzato, può essere utile, può essere quel passo che fa la differenza e che rende una giornata felice a qualcuno che ne ha bisogno. Grazie e buona giornata! Grazie a tutti!